Sindaco, arriva il momento più importante per qualsiasi amministrazione comunale, che sia l'approvazione del bilancio. Torano lo ha già fatto questo percorso? Sì, Torano lo ha già fatto. Penso che Torano sia stato uno dei primi comuni della provincia di Teramo ad approvare il bilancio preventivo ed è stata soprattutto una scelta mia e della mia amministrazione che ha condiviso la mia idea. Era fondamentale, anche se quest'anno non avevamo veramente delle scadenze dettate dalla legge, però era fondamentale approntarci al resto dell'anno con il bilancio approvato e quindi con tutto quello che avevamo da spendere diviso per capitoli. Dal punto di vista pratico ovviamente l'attesa è legata a quella che riguarda la tassazione. Torano come siamo messi considerando anche quelle che sono le stettezze economiche con le quali bisogna convivere? Sì, considerando proprio anche il nuovo bilancio che non è fatto più con il patto di stabilità ma con un bilancio di cassa, comunque nonostante tutte le ristrettezze e i minori trasferimenti statali Torano è riuscito a non aumentare nessuna tassa, a non aumentare i servizi a domanda individuale e grazie al piano finanziario reso ginoto dalla Poliservice nell'ultimo periodo abbiamo anche diminuito, anche per quest'anno, la tassa su rifiuti. Tassa su rifiuti che scende in che percentuale in questo anno? Negli altri anni è scesa abbastanza, anche mi ricordo il primo anno quando ero assessore che iniziamo l'arco ultra differenziata è scesa del 20% la tassa su rifiuti che è stato quasi un record in provincia di Teramo. Quest'anno è scesa in percentuale minima ma comunque non c'è stato un aumento che la gente è quello che non vuole sentire ma c'è stata una diminuzione. Il bilancio e l'ultima c'è anche un discorso legato agli investimenti, insomma cosa potranno attendersi i toranesi in questo anno? I toranesi vedranno dei lavori partire proprio nei prossimi giorni. C'è stata una frana in via Regina Margherita, proprio sul parcheggio posto in via Regina Margherita e questa vedrà pronta soluzione, un rifacimento entro il mese di maggio. Già la ditta è venuta a firmare il contratto di appalto. Poi a breve partirà il famoso rifacimento della via che conduce Torano a Villa Bizzarri, quella con un finanziamento regionale di circa 300 mila euro. Poi sempre grazie a un finanziamento regionale ottenuto lo scorso anno asfalteremo un pezzo di strada si dà incontrata con le forche di Torano Nuovo e in più con quello che avanza cercheremo di fare dei miglioramenti sempre lungo le sedi viarie toranesi.